Ciao a tutti, ci troviamo a Schio, in viale dell'industria, presso il punto vendita d'Oreland questo bellissimo negozio con delle cose stupende all'interno e io sono qui per farvi vedere un'altra realizzazione della 3D Graph un saluto anche a tutto lo staff della Doreland di Schio, dove siamo adesso e anche alla sede di Tiene quello che vedete è un adesivo a una base di 180 cm ed è stato stampato e fustellato oltretutto voglio farvi vedere questo adesivo anche per la speciale promozione di autunno della Doreland da non perdere, questo è un impatto molto molto bello Doreland di Schio, 3D Graph, ciao a tutti, buona giornata, ciao ciao Grazie a tutti